Siamo tornati qui sul sito, oggi siamo tornati per annunciare che ci sarà una nuova partnership con la Legionarius League e con il sottoscritto, Fight Club di Firenze di Via Circoni è entrato a far parte come sponsor della Legionarius League e del sottoscritto dove hanno tutti attrezzatori per i sport da combattimento di MMA e soprattutto hanno tutte le magliette e merchandising dell'UFC e dei sport di MMA che vi possono mandare direttamente a casa. Ringrazio il proprietario Fabio Nicolai e sicuramente ci sarà una grandissima collaborazione in questi anni perché abbiamo stretto delle nuove idee che vedrete in questi mesi, sia con me, con delle nuove tecniche di allenamento che possono sfruttare anche la loro collaborazione con le maschere che io uso, maschere per l'ossigeno per aumentare la prestazione fisica, per le nuove magliette che saranno anche spinte da loro del Legionarius League e soprattutto per un futuro entrerò anche a Firenze grazie al Fight Club per iniziare a divulgare sempre di più le MMA. Sono molto contento, per qualsiasi informazione www.fightclubstore.com e niente, sicuramente in questi giorni vedrete qualche allenamento perché loro hanno capito che la cosa importante per gli atleti è la condizione fisica e quindi la maschera che io uso e che usiamo in America è molto importante e lui ha capito che la doveva importare qui in Italia per tutti voi. Quindi state sempre qui su alessiosacara.tv, un abbraccio e ricordatevi che da adesso in poi ci sarà Legionarius Zone.